E qui alla ASL in via Stazzi, amici, ci sono anche tre gattini, per fortuna non è un numero elevatissimo, li potete vedere, ve li mostriamo tutti e tre, sono piccolini sicuramente, hanno pochi mesi giusto dottore, quindi la conferma appunto arriva anche dal dottore, pochi mesi di vita per questi tre gattini, questo è il secondo e questo è il terzo, che sono diciamo immediatamente adottabili se vogliono, quindi se lo volete, questo sicuramente è un bel gesto, sarebbe un bel gesto di civiltà, li potete adottare direttamente qui appunto alla ASL in via Stazzi, eccoli qui, allora questo è il primo, il secondo, questo è una femmina eppure questa è una femmina.